Grazie a tutti. Con un modo che secondo me rimane ancora oggi imbattibile. Abbiamo molti protagonisti in questa serata. Gli artefici di stasera li ascolteremo poi a tavola, sia i nostri sponsor di vino che gli spiedatori, che vi parleremo dei presidi. Quindi tutto. Quello che volevo invece ricordare qui in questo momento è che questa è la festa vostra e nostra. Di noi soci che consumatori piuttosto che produttori apparteniamo e con il nostro essere soci, con il nostro saper imparare a scegliere cosa comprare o imparare o condividere un'idea e calarla nella concretezza della propria attività, testimoniamo la nostra appartenenza e sogniamo anche un mondo migliore. Scegliendo il cibo che mangiamo o producendo il cibo che mangiamo pensiamo a un mondo migliore. Per questo motivo, per la significatività che oggi ha questo territorio così piccolo circoscritto che ha scelto di avere la propria identità nella produzione agroalimentare, nel vino sicuramente come traino, ma nella produzione agroalimentare più ampia, il nostro presidente nazionale Roberto Curtesi ha scelto di essere con noi e di passare con noi il proprio Terra Madre dei, la festa di Slow Food in tutto il mondo e lui è con noi, lo ringraziamo e ti do la parola per poi fare un brindisi tutto insieme. Buonasera a tutti, intanto mi fa piacere tornare in Franciacorte dove da tanti anni ho spesso l'occasione di passare e di fermarmi perché ci sono posti dove passi e non hai tanta voglia di fermarti e posti dove passi invece trovi sempre una scusa per fermarti. La scusa quest'anno non di fermarti ma di venire apposta è il Terra Madre dei. Pensate che stiamo più o meno celebrando questa festa in migliaia di posti nel mondo, in più di 100 paesi. La rete di Slow Food di Terra Madre oggi raggiunge 150 paesi nel mondo e quasi tutti si sono organizzati nelle maniere più articolate possibili per celebrare questa festa. immaginate che noi siamo qui e in dicembre vuol dire inverno, vuol dire freddo ma lo stanno celebrando in Australia probabilmente su qualche spiaggia, noi lo festeggiamo... ne faremo... ne faremo... ne faremo... la festa di... però, però... vabbè con il nostro food day lo facciamo destacro. Noi lo festeggiamo bevendo Franciacorta e... e con lo spiedo... Capriano Alcol... e Capriano Alcol... e con lo spiedo e ci sono le nostre comunità in 25 paesi dell'Africa che lo stanno festeggiando nei loro orti in maniera ovviamente molto diversa, però la forza di questa grande rete è proprio questa che ci raduniamo tutti assieme nei luoghi più incredibili della Terra e nei modi più diversi però con lo stesso scopo celebrare la Terra Madre, cioè la Terra che è quella da cui viene il cibo e che purtroppo su tutto il pianeta non stiamo più rispettando a sufficienza. Non è una questione strettamente ambientalista o strettamente etica, cioè qua ci riguarda tutti, anche il più disincantato, il più cinico, il più gran benefreghista di questo pianeta deve sapere che la sua alimentazione, l'alimentazione dei suoi figli, di quelli che verranno dopo di lui, dipende dallo stato di salute del pianeta e se la Terra non sta bene non è il pianeta a venire meno ma siamo noi come genere umano, quindi prenderci cura della Terra Madre è qualcosa che ci deve riguardare tutti, tanto più in territori come questo che sono diventati ormai una specie di piccola isola in mezzo a un territorio ampiamente sfruttato, io poi vengo dalla provincia di Cuneo, non è che vengo dall'altra parte del mondo è più o meno la stessa situazione che questa, quindi dobbiamo a maggior ragione difendere queste isole 10 dicembre perché è il giorno in cui nel 1989, quindi 23 anni fa esattamente come oggi a quest'ora si firmava a Parigi il manifesto dello slow food, quindi è il giorno in cui la nostra associazione è nata a tutti gli effetti a livello internazionale, tre anni prima era già nata in Italia ma il momento importante è vero il 10 dicembre 1989 a Parigi, vale la pena ricordarlo perché poi non tutti lo sanno perché Parigi ovviamente nell'89 se parlavi di gastronomia era l'unico posto del mondo in cui aveva senso andare Parigi capitale della Francia, l'unico luogo della Terra in cui si celebrava il cibo come cultura a tutti gli effetti era la Francia, oggi se pensate che le classifiche dicono che il miglior ristorante al mondo è a Copenaghe, che gli ultimi 10 anni sono stati dominati dagli spagnoli e che i prossimi 10 saranno dei sudamericani e dei cinesi, capite che il mondo è cambiato, la globalizzazione ha cambiato tutto e non solo per forza nel male anche nel bene, nell'89 era Parigi, ma era importante l'89 essere a Parigi perché era anche bicentenario della rivoluzione e la ristorazione moderna nasce dalla rivoluzione francese i cuochi di corte si ritrovano disoccupati perché i loro padroni hanno perso la testa e quindi cosa fanno? Aprono dei ristoranti, non è che non esistesse già la ristorazione ma era una ristorazione diciamo popolare per essere generosi, cioè quella che nasce dopo la rivoluzione francese e l'altra ristorazione, cioè cuochi con tecnica, con competenza e con esperienza aprono luoghi di ristorazione di alto livello e quindi la scelta di Parigi era motivata da quello, mi piace raccontare questa cosa per dire che allora eravamo a Parigi, 16 paesi, ci guardavamo in faccia ed eravamo più o meno tutti del nord del mondo e pensavamo che sarebbe finita tutta lì la storia, oggi vi sto dicendo che stiamo celebrando questa cosa in 100 paesi ma sono 150 quelli in cui arriviamo e che il luogo dove c'è il fermento più stimolante sul futuro del cibo è il continente africano ma dove non è che discutono di come risolvere il problema della fame, punto, cioè discutono del futuro del cibo esattamente come noi poi là hanno il problema della fame e il problema dell'obesità, pensate, il problema dei paesi ricchi c'è anche là e però intanto da noi, che l'obesità ce l'abbiamo già in casa da un po' di anni da un problema su cui dobbiamo confrontarci, sta arrivando anche ai margini purtroppo della nostra società soprattutto nelle metropoli, sta arrivando in una forma differente ma sta arrivando anche il problema della malnutrizione, della fame, allora come dire la catena ha chiuso il suo cerchio, i due estremi si toccano la riflessione sul futuro del cibo che vuol dire qualità dell'ambiente, qualità della nostra salute qualità della nostra vita, costruire le nostre relazioni sociali, la nostra società ci riguarda tutti noi poi la festeggiamo in maniera molto laica e col piacere di cui ci parlava Patrizia però è importante che anche nel momento del brindisi, anche nel momento della festa, della cena non ci dimentichiamo che mangiare è un atto agricolo, la scelta alimentare che facciamo determina tante cose attorno a noi, cioè mangiare è politica ma quella proprio bella, quella sana votiamo tutti i giorni con la nostra forchetta e non votiamo a destra o a sinistra, votiamo il contadino che lavora bene o la multinazionale che sta compromettendo il nostro futuro ci dobbiamo mettere un po' di testa, neanche troppo, appena un po', se andate come questa devono servire per ricordarcelo e poi dopo, domani, pezzo per volta, anche solo una scelta migliore che facciamo, un pezzettino, se già solo tutti noi facciamo una cosetta un po' meglio abbiamo già cambiato qualche cosa e se ogni giorno ci mettiamo un pezzo ci troveremo che abbiamo cambiato il mondo senza rendercene conto. Salute a tutti e arrivate domani. Grazie.